ragazzi buongiorno oggi sono con paolo milanoli campione olimpico a sidney 2000 nella scherma oggi lo voglio sfidare la prima volta che sfido un campionissimo potrei chiamarlo così e in cosa ti sfido oggi paolo sei preparato fisicamente sono meno preparato di quando ho fatto le olimpiadi però diciamo che cerco di tenermi in forma per cui con te sarà difficile visto che tagline tutti i giorni ma darò il massimo come sempre l'importante è dare il massimo si sottovaluta ma è in formula vediamo in perfetta forma allora la sfida oggi la estraiamo così vediamo un po il sorteggio qual è l'esercizio che andremo a fare io ho messo tre esercizi trazioni plank e piegamenti sulle braccia vediamo se paolo oggi è fortunato e qualche preferenza vediamo intanto se sono fortunato io preferirei i piegamenti vediamo cosa viene fuori apro io brivido la peggiore trazioni trazioni però penso sia dura anche per te per tutti lui lo vediamo è leggero leva lunga vediamo in bocca al lupo bene gli ho fatto cambiare anche la maglietta gli ha messo la maglietta col suo personaggio e adesso trazioni visto che parte secondo me svantaggiato non tanto perché detesto ammettere di partire svantaggiato a qualche annetto in più di me visto che ci diamo dieci anni di differenza io ho deciso di mettermi una zavorra di dieci chili quindi le trazioni le facciamo in pugnatura inversa e vediamo che fa di più va bene andiamo in contemporanea quando uno cede cede perfetto dai andiamo pronto sfido un oro olimpico ragazzi oggi dai preparati lì va dai 3 2 1 via su dai 1 dai 2 vai 3 dai 4 5 6 vai 7 vai 8 vai 9 dai bravissimo vai 10 vai ancora una vai ok bravo stop va bene va bene ammazza finita parità ragazzi finita parità ti ringrazio per il pareggio perché mi ha detto che è da un po che non faceva trazioni quindi l'ho sfidato domani sarà massacrato sarà pieno di doves speriamo di non averlo strappato ma niente complimenti a te perché anche con la zavorra bravo bravo però è stata una bella sfida è stata dura è abbastanza dai un po che non che ero fermo e quindi è stata abbastanza dura però dai mi sono difeso ti sei difeso alla grande ma adesso allora raccontaci qualcosa un po della tua carriera agonistica perché tutti noi ti conosciamo come l'uomo mascherato hai portato questa maschera in pedana ma da dove è nata questa idea di tirare fuori proprio questo personaggio ma guarda questa è stata una follia ce l'ho anche qua da farti vedere che ho fatto nel 2001 dopo cent'anni di schermo in bianco e nero ho detto voglio dare un tocco di colore e penso che questo mi rappresenti perché è è cattivo ma in fondo un clown in clown sono sempre buoni ho avuto la fortuna di presentarmi con una cosa così dirompente e di vincere il titolo mondiale e per cui questa maschera ha avuto un grande successo e adesso tutti mi ricordano per questa poi c'è anche dietro l'atleta quello vero professionista diciamo e infatti sei un canale che parla di allenamento io ti ho fatto venire anche qua per questo per parlare un po di allenamento e per far capire anche alle persone che ci guardano quanto anche in uno sport come la scherma sia importantissima la preparazione fisica giusto prima di tutto la cosa che posso dire che allenarsi è importante senza allenamento non si ottengono risultati e questo non c'è dubbio dopodiché ovviamente in tutti gli sport di alto livello c'è tutta una preparazione che va dalla preparazione fisica nel nostro caso anche la tecnica e quindi noi facevamo all'inizio anno una preparazione più aerobica quindi molta forza anche quindi lavoravamo con i pesi e poi man mano che si avvicinavano le competizioni andavamo in trasformazione perché noi avevamo bisogno di una forza esplosiva tutto si risolve in 5 centesimi di secondo e in un metro e mezzo di velocità e quindi abbiamo bisogno di grande esplosività e quindi c'era tutta la conseguente preparazione è dato atleti veri perché comunque mi raccontava prima paolo che si allenavano anche due volte al giorno preparazione fisica componente tecnica e immagino che anche l'alimentazione per per voi comunque per te sia stata importante per riuscire ad avere la massima performance si beh sicuramente e soprattutto dove bisogno di velocità e di esplosività meno zavorra è addosso e meglio è e quindi l'alimentazione ti aiuta sia per la qualità anche della forza accumulata e dei muscoli quindi avevamo un'alimentazione pregare un'alimentazione in fase di allenamento e a seconda del periodo dell'an eccetera eccetera io personalmente sono abbastanza fortunato per cui non avevo accumuli eccessivi e per cui mi gestivo anche ascoltando molto il mio corpo cosa che consiglio a tutti perché molti danno ricette danno consigli anche giustissimi ma la prima cosa è sempre confrontare quei consigli con le sensazioni che arrivano da di dentro perché di dentro in realtà noi sappiamo già tutto e quindi se ci ascoltiamo poi riusciremo a fare le scelte giuste bene bene e mi diceva prima che comunque la sua alimentazione si basala principalmente su tantissima verdura e viva la verdura e viva la verdura bravo un'altra cosa ti voglio chiedere perché qua sul mio canale io ogni giorno mi combatto contro la cultura del doping perché dall'altra parte ci sono spesso tanti ragazzi giovani che magari vogliono raggiungere dei risultati fisici e a volte vedono magari dei personaggi che raggiungono determinati risultati con delle scorciatoie io sono contro il doping volevo sapere anche un po' il tuo parere sul doping e anche quello che in uno sport come la scherma poteva esserci oppure meno allora io parlo da un osservatorio privilegiato perché nella scherma il doping praticamente non esiste come in tutti gli sport dove la componente tecnica è molto accentuata però soprattutto ai più giovani posso dire ma senza retorica un messaggio chiaro il doping è da sfigare su questo non c'è dubbio chi si dopa è semplicemente uno sfigato e un devoli dopodiché è vero che in certi sport più di performance si è più allettati perché si vede dove c'è solo la forza fisica che conta uno con delle sostanze superate però rimane il fatto che ottenere i risultati in modo pulito con la costanza e con la fatica non dico sacrificio perché è un termine che odio siamo dei privilegiati a fare dello sport un nostro mestiere e quindi c'è triplo della soddisfazione insomma è come conquistare una donna o pagarla bravissimo il messaggio che ha dato è giustissimo il doping è da sfigati ma Paolo oggi invece cosa combini? oggi ho come si suol dire semi appeso la spada al chiodo perché ancora continuo a cimentarmi con i ragazzini a consigliare e ho impugnato un altro oggetto che adesso ti mostro che non è una spada ma è altrettanto bella come design come vedi ha un design assolutamente particolare e mi sono avvicinato a questa nuova stampella che si chiama Tompoma proprio per la bellezza di questo oggetto e quindi della filosofia che racchiude perché noi non vogliamo più sentire parlare di disabilità con questa retorica quindi ognuno ha dei problemi chi fisici chi di altro genere e noi pensiamo alle soluzioni questa è una stampella che è geniale perché rivoluziona il modo di camminare quindi risolve un problema poi è anche cool e anche da mostrare e quindi non c'è veramente il massimo comunque poi ne parlerò in un'altra puntata perché dietro questa non c'è solo il look estetico interessante ma ci sono proprio dei vantaggi fisiologici e quindi poi farò proprio una recensione su questa stampella perché magari potrebbe tornare utile a qualcuno che ci sta guardando soprattutto negli sport come la scherma o nel tennis dove si usano le braccia quando uno si fa male il ginocchio poi usando la stampella si danneggia magari la spalla o il gomito eccetera e quindi l'ho trovata geniale anche con l'occhio dello schermitore grazie Paolo di essere stato oggi qua con me mi ha fatto veramente piacere sfidarti e ragazzi pollicione all'insù per l'uomo mascherato che ha difeso l'Italia alle Olimpiadi e ha portato a casa la medaglia d'oro grazie a te è stata una delle sfide più dure della mia carriera vi aspetto alla prossima sfida che sceglierò io e dove metterò in paglio la mia medaglia olimpica addirittura quindi preparati non sarà facile portarmela via grazie a tutti grazie a tutti